Sanità e responsabilità morali e politiche. Dopo i recenti fatti di cronaca su cui indaga la magistratura e l'ASREM, il dibattito è sui doveri di chi governa nei confronti dei cittadini e sulla necessità di ascoltare il territorio. Lavoro l'appello a Mattarella, a corata lettera di una donna di Campodipietra, al capo dello Stato, sulle difficoltà a trovare lavoro per chi lo ha perso e ad avere anche gli ammortizzatori che spettano. Termoli iniziato, il collaudo al depuratore, i tecnici al lavoro prima di Natale, a febbraio dovrebbe terminare, impianto costato 4 milioni. L'obitorio del cimitero da 7 mesi senza sistema elettrico, il sindaco non lo sapevo, provvederemo. Cittadinanza onoraria al Corpo Forestale, l'iniziativa Roccamandolfi dove il Comune ha concesso il riconoscimento alla forestale che dal 1 gennaio è entrata a far parte dell'arma dei carabinieri. Basket, l'infrasettimanale apre l'anno in Serie B, rinviata alla gara tra Globo Isernia e Senigallia. Il Venafro, giovedì in trasferta ad Ortona, in C-Silver la capolista Termoli, domani va in casa del Chieti. Buon pomeriggio, benvenuti al nostro Tg delle 14, la morte della donna dializzata a Isernia come quello di un'altra donna morta al pronto soccorso sempre di Isernia. Sono fatti di cronaca su cui stanno indagando magistratura e ASREM, ma al di là delle eventuali responsabilità penali, quella che c'è per intero è la responsabilità morale e politica di chi governa la sanità regionale e non ha dato alcun ascolto ai numerosi allarmi partiti dal territorio. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Gli ultimi fatti di cronaca gettono ancora più ombre sul futuro della sanità regionale. La morte della donna che aveva appena fatto la dialisi a Isernia perché il reparto non funzionava ad Agnone e la morte di un'altra donna deceduta al pronto soccorso del Veneziale perché non c'era posto nei reparti, sono due eventi tragici su cui sta indagando la magistratura e a quanto si sa la stessa ASREM. Ma al di là delle eventuali responsabilità penali, il quadro della sanità pubblica molisana è rovinoso e devastato. Una sanità, quella regionale, che nel giro di pochi anni ha dovuto ridurre le sue spese di un terzo. Prima si viaggiava intorno ai 900 milioni l'anno, oggi per il 2017 il totale dei fondi supera di poco i 600 milioni. Ma mentre la sanità pubblica ha dovuto tagliare reparti e servizi, per la sanità privata le cose hanno subito modifiche molto meno traumatiche. Parlando di numeri, la sanità pubblica costava intorno agli 800 milioni e quella privata intorno al centinaio. Oggi, nel 2017, la sanità pubblica ha l'obbligo di costare qualcosa in più di 500 milioni, mentre quella privata viaggia sempre intorno al centinaio di milioni. In sostanza, il taglio pesante, quello che ogni giorno mette in discussione la vita di migliaia di molisani che vivono lontani dal Cardarelli di Campobasso, è il taglio che hanno dovuto subire strutture, servizi e personale della sanità pubblica. Un taglio da circa 300 milioni. Il risultato è sotto agli occhi di tutti. Agnone, Larino e Venafro, tre poliambulatori. Iserni e Termoli, due ospedali a scartamento ridotto senza numerose unità operative complesse. L'unico che si dovrebbe salvare è il cosiddetto hub regionale, il Cardarelli, progettato per servire 100 mila utenti, quelli del Molise Centrale, e oggi riconvertito a ospedale unico regionale. Intanto i privati protestano e dicono, i tagli li hanno fatti anche a noi, ma la matematica dice un'altra cosa. Alcuni telespettatori ci segnalano, rivolgendosi alla classe politica molisana, che sarebbe opportuno e doveroso far aggiustare il termosifone alla sala di aspetto del reparto di oncologia del Day Hospital del Cardarelli di Campobasso. Sono diverse le persone che ogni giorno vi si recano per lavoro o per cure. Sicuramente ci scrivono i telespettatori, meritano un minimo di rispetto da parte della politica. Il tema del lavoro che manca, della crisi che morde, ci ha particolarmente colpito una lettera che una donna di Campodipietra ha inviato al capo dello Stato, Mattarella. Una lettera che è un appello e che rappresenta una fotografia comune a tante, troppe persone in Molise. Sentiamo. Il lavoro dà dignità ad ogni persona, un concetto espresso da Papa Francesco. Nella sua visita in Molise è ripetuto ultimamente anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno. Il lavoro che però continua a mancare nel sud e in Molise in particolare, che rappresenta una piaga aperta, che fa sempre più male. In redazione c'è giunta una corata lettera di una donna di Campodipietra. Un appello che ha inviato proprio al capo dello Stato, Mattarella, riprendendo appunto le sue parole sulla dignità. Carolina Dantino è la firma sulla lettera. Quel poco di lavoro che c'è, ha scritto, scompare o si trasforma in contratti precari con più ore e meno diritti. Ha disegnato un quadro comune a tante donne e persone non più giovani, per le quali è più difficile trovare un nuovo impiego. Perdere il posto è un dramma, genera incertezza. Il collocamento pubblico non esiste più, si legge nella lettera, e per chi è avanti con l'età non c'è spazio nemmeno nelle agenzie di collocamento private. Non si viene chiamati nemmeno per semplici sostituzioni ed è dura, mortificante trovare porte chiuse. La signora Dantino ha raccontato quindi quanto le è capitato in questi giorni, che le è stato negato anche il sussidio della mobilità in deroga, che le spettava per legge, ha rimarcato. Dal sindacato aveva avuto rassicurazioni sui sette mesi che attendeva del 2015 e su una parte dei sei mesi del 2016, perché ha spiegato lo Stato con una legge di settembre scorso, aveva assegnato alla Regione Molise più di 50 milioni di euro per pagare le mobilità in deroga del 2015 e 2016. La donna ha detto ancora di essere andata all'Inps. Mi hanno riferito, ha continuato nella lettera a Mattarella, che la Regione qualche giorno prima di Natale ha cambiato le regole, non mi tocca più niente e non posso rifare nemmeno la domanda per il 2016. Parole che hanno gettato la donna nello sconforto, nell'incredulità, pur avendo fatto bene le domande. Ogni volta che ho chiesto notizie mi dicevano che aspettavano i soldi dallo Stato e ora che ha assegnato i fondi per pagarci, sono state cambiate le regole, non ci tocca più niente, né lavoro né mobilità in deroga. Il periodo delle festività per chi non lavora non è molto bello. ha concluso appellandosi a Mattarella ma mai avrei pensato che mi sarebbe accaduta una cosa del genere. In questo modo è proprio a Natale. Una lettera questa che ci ha colpito in quanto raffigura una situazione purtroppo comune a tante, troppe persone. La Regione rispetti i propri atti e saldi, le mensilità dal 2014 a 2016 delle mobilità in deroga ai 2000 lavoratori che ne hanno diritto. E' l'appello rivolto anche dal coordinamento molisano dei cristiano sociali. La Regione, spiegano in una nota, ha adottato provvedimenti con cui ha autorizzato l'Inps a liquidare i rate e i residui 2014 e 5 mensilità del 2015. Successivamente aggiungono, invece di completare i pagamenti delle 7 mensilità 2015 e delle 6 relative al 2016, ha ritenuto di adottare una nuova regolamentazione della materia. Secondo le nuove istruzioni operative regionali pubblicate sul bollettino ufficiale del 23 dicembre, si legge nella nota, sono stati esclusi dalla possibilità di accedere alla mobilità in deroga tutti i lavoratori licenziati prima del primo dell'anno scorso e tutti quelli che già percepivano la mobilità ordinaria e o in deroga nel 2015. Non si possono cancellare con un tratto di penna, concludono i cristiano sociali molisani, le aspettative di queste famiglie. Sul destino della biblioteca Albino di Campobasso resta l'incertezza. Il segretario della Wiltux, Pasquale Guarracino, ha ricordato che la struttura è chiusa e non si intravedono spiragli per la sua riapertura. Dalla regione il consigliere Joffredi ha precisato che ogni responsabilità ora è del Ministero, chiamata a occuparsi della gestione. Intanto i dipendenti restano a casa e gli utenti non possono più soffrire dell'importante servizio. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Sul destino della biblioteca Albino di Campobasso è sceso il silenzio. La struttura, secondo la denuncia del segretario regionale della Wiltux, Pasquale Guarracino, è chiusa e i lavoratori sono stati licenziati e non percepiscono alcune indennità. Le due cooperative che svolgevano i servizi all'interno della biblioteca sono state estromesse e con esse 15 persone che per anni hanno garantito l'attività della struttura. Erano rimasti solo alcuni dipendenti della provincia, ma la biblioteca ha ugualmente chiuso i battenti. Poi la svolta, con l'intesa tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali. Sono mesi che gli utenti attendono la riapertura della storica biblioteca, ha precisato Guarracino, ma ad oggi ciò non è avvenuto, nonostante l'annuncio di fratture del consigliere delegato alla cultura Ioffredi, della ripresa delle attività al massimo entro l'inizio di gennaio. Il sindacalista ha denunciato l'assenza di un interlocutore col quale affrontare il problema. Dove è finita la dignità del lavoro e delle nostre vertenze? La domanda di Guarracino, che ha ricordato anche come i lavoratori stiano aspettando da mesi risposte su quello che sarà il loro destino. La replica del consigliere Ioffredi, tirato in ballo dal segretario della Wiltux, non si è fatta attendere, accusando Guarracino di smania e di protagonismo. E dopo aver ripercorso le tappe della controversa vicenda, ha tenuto a precisare che la biblioteca ormai è nelle mani del Ministero. Quindi, le sue domande, il senso della replica di Ioffredi, Guarracino a questo punto deve rivolgerle proprio al Ministero. Insomma, sulle responsabilità della situazione in cui è finita la storica biblioteca e scarica barile, come dire, ormai la Regione non c'entra più. Prego rivolgersi al Ministero. Con buona pace dei lavoratori rimandati a casa e delle centinaia di utenti dell'Albino che hanno perso un importante punto di riferimento al quale rivolgersi per documentarsi o tenersi informati. Riaprire il centro commerciale San Nicola per ricollocare i lavoratori dello zuccherificio del Molise è la carta che il Presidente della Regione Frattura intende giocare nei prossimi mesi per dare uno sbocco lavorativo agli ex dipendenti dello stabilimento saccarifero definitivamente chiuso. I lavoratori, oltre 70 persone, dovrebbero essere riassorbite in un progetto che al momento non pare fondato su alcun presupposto. Il centro San Nicola, aperto nel 2006, ha chiuso i battenti nel 2015 lasciando a casa circa 100 lavoratori. La struttura è attualmente di proprietà di un fondo di investimento arabo di cui si conosce ben poco. Reattivarla presuppone un progetto commerciale, un investimento di milioni di euro e la possibile esposizione a speculazioni. Quella di frattura sullo zuccherificio resta al momento un'ipotesi solo sulla carta, tutta da verificare, soprattutto sul profilo degli ipotetici investitori. Pochi giorni prima di Natale è iniziato il collaudo del nuovo depuratore del Sinarca di Termoli che dovrebbe terminare a febbraio. Dunque partirà la fase di start-up con una messa a regime graduale dell'impianto costato 4 milioni di euro e che dovrà alleggerire il carico di quello del porto che ormai non ce la fa più. Sentiamo Manuela Iorio. Il 22 dicembre è partito il collaudo dell'impianto di depurazione del Sinarca di Termoli in costruzione ormai da 10 anni. Il collaudatore insieme all'impresa sta effettuando le prove di carico per vedere se il sistema regge. Un lavoro che andrà avanti fino a febbraio e che segue il collaudo dei ferri del cemento usato per i lavori e cheppure ha dato esito positivo. Dunque terminato tutto l'impianto sarà pronto ma dovrà entrare in funzione gradualmente. Sono previsti sei mesi di start-up una fase in cui si andrà a regime poco per volta ha spiegato il sindaco Angelo Sbrocca una fase in cui però il depuratore del porto già vedrà alleggerito il suo carico. L'impianto del Sinarca costato 4 milioni di euro servirà a 12.000 utenze e ha il compito proprio di far tirare il fiato a quello del porto ormai vecchio e che lavora oltre la sua portata da diversi anni. Il nuovo modulo dopo già numerosi ritardi doveva essere pronto a inizio 2016 poi i tempi si sono allungati per le inadempienze della ditta che lo ha costruito che non avrebbe rispettato né capitolato né tempistica e con la quale il Comune ha deciso poi di rescindere il contratto. Un impas che ha determinato disagi non solo ai tanti cittadini ai quali sono ancora oggi impediti nuovi allacce alla rete idrica ma che ha determinato numerosi problemi dovuti anche alla rottura la scorsa estate della condotta sottomarina del depuratore. Con il nuovo impianto a regime a questo punto non prima di agosto tutti i problemi però dovrebbero risolversi. La Will ha apprezzato l'incremento del fondo per la non autosufficienza a livello nazionale e confida che queste risorse aggiuntive non siano una tantum solo per il 2017. Peccato che da noi in Molise ha però aggiunto la segretaria regionale del sindacato Tecla Boccardo anche su questa tematica si dorma. Da tempo giace agli atti della regione la proposta di legge d'iniziativa popolare su cui sindacati pensionati confederali molisani hanno raccolto migliaia di firme ma ha rimarcato Boccardo tutto tace. Sarà che è una tematica difficile e delicata troppo intrecciata con la sanità sarà perché non si sa nemmeno bene a che assessore si debba far capo. Ha detto ancora sta di fatto che nel Molise che invecchia o dove l'handicap è problema della singola famiglia si preferisce occuparsi di altro. La segretaria regionale della Will ha infine sottolineato che c'è il rischio che le risorse nazionali destinate alla non autosufficienza prendano un'altra direzione destinate a regioni i cui amministratori sono più attenti e magari più rispettosi dei bisogni delle istanze dei loro concittadini. Andiamo ora a Roccamandolfi per un'iniziativa davvero originale. Il Comune ha infatti conferito la cittadinanza onorare al Corpo Forestale dello Stato dal 1 gennaio entrato a far parte dell'arma dei carabinieri. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Una cerimonia davvero particolare segnata anche da un pizzico di commozione quella di scena nell'ex cappella di San Gaetano nel centro storico di Roccamandolfi. In seguito all'integrazione con l'arma dei carabinieri il Comune ha voluto conferire la cittadinanza onoraria al Corpo Forestale dello Stato presente in paese con una stazione in segno di riconoscimento per l'opera svolta a tutela della natura. Il Consiglio Comunale di Roccamandolfi ha voluto conferire la cittadinanza onoraria al Corpo Forestale per ringraziare il corpo stesso del lavoro effettuato con dedizione con orgoglio e con passione per tanti anni. Era giusto che a farlo fosse un comune come quello di Roccamandolfi un comune che ha un patrimonio boschivo importante un comune che detiene la vetta del Maetese un comune in cui il Corpo Forestale ha sempre rappresentato un valido interlocutore e un punto di riferimento per tutti i cittadini. Il riconoscimento è stato consegnato a Gianluca Grossi comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Isernia. Alla cerimonia ha partecipato anche il generale Michele Sirimarco comandante della legione Carabinieri Abruzzo Molise. Durante il suo intervento ha voluto rassicurare tutti con l'assorbimento della forestale nell'arma per i cittadini e il territorio non cambia nulla. Sotto il profilo funzionale sul territorio non cambia nulla. Questa unione tra l'arma dei Carabinieri e il Corpo Forestale dello Stato serve a creare un'organizzazione per la tutela ambientale che sarà un punto di riferimento a livello internazionale. I servizi rimangono gli stessi e si crea un'organizzazione che sotto il profilo proprio della funzionalità sarà sicuramente in grado di rendere un servizio migliore alla comunità. Dopo quasi due secoli di storia si chiude dunque un capitolo con un bilancio sicuramente positivo ed è tempo di consuntivi anche per l'ex comandante provinciale della forestale di Sernia Luciano San Marone trasferito a Castel di Sangro. Esperienza eccezionale eccezionale per il valore umano delle persone per il valore professionale per la possibilità di aver collaborato con i colleghi delle altre forze di polizia delle altre istituzioni è stato da Molisano un grande onore essere comandante provinciale del corpo forestale dello Stato a casa propria è stato fatto tanto lavoro e il merito ovviamente è del personale dei ragazzi che sta sul territorio degli uomini che avevano e hanno grandi professionalità grande cultura del rispetto del territorio di chi lavora sul territorio. Un migrante originario del Pakistan di 23 anni è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento da quanto si è appreso il giovane dopo aver molestato alcuni clienti in un locale del centro storico e danneggiato alcune suppellettili è stato fermato a fatica dagli uomini della volante è accaduto a Isernia il giovane ha infatti aggredito gli agenti sferrando dei calci all'auto della polizia accompagnato in questura per l'identificazione il 23enne ha continuato a dare in escandescenza infatti ha aggredito un poliziotto che stava cercando di calmarlo rendendo necessario l'intervento del 118 il giovane ha poi creato scompiglio anche nel carcere di Ponte San Leonardo è stato infatti nuovamente chiesto l'intervento di un'ambulanza per accompagnarlo in ospedale dove è stato sedato da sette mesi l'obitorio del cimitero di Termoli è privo del sistema elettrico danneggiato con un incendio doloso che ha distrutto anche i registri delle sepolture tanti disagi per i familiari dei defunti e onoranze funebri costretti a farsi luce con i cellulari non ne sapevo nulla provvederemo subito ha dichiarato il sindaco Angelo Sbrocca sentiamo lo scorso maggio un gesto inquietante che aveva lasciato una certa amarezza e cioè l'incendio doloso dell'obitorio del cimitero di Termoli dove qualcuno era riuscito a intrufolarsi dando fuoco ai registri dei decessi in quell'occasione sono andati persi gli archivi degli ultimi decenni dove erano annotate le sepolture ed era rimasta danneggiata anche la camera mortuaria dove vengono sistemate le salme in attesa della sepoltura quella notte fortunatamente era vuota proprio qui dentro sulle piastrelle bianche una scritta comune ladro un messaggio dunque con un preciso destinatario e su cui però si sono potute fare solo ipotesi perché nonostante le indagini delle forze dell'ordine non si è riusciti a risalire al responsabile del gesto quell'incendio aveva messo cappò anche il sistema elettrico sono passati sette mesi e l'impianto non è stato ancora ripristinato con un estremo disagio non solo per gli operatori delle onoranze funebri ma per gli stessi familiari dei defunti tutti indistintamente costretti a farsi luce con i cellulari all'interno dell'obitorio quando ormai la luce del giorno viene meno una vergogna è stato il commento di chi si è trovato a vivere il disagio insieme a quello del dolore per la perdita di una persona cara alla struttura comunale sono arrivate diverse segnalazioni sono stati avvisati gli operai del cimitero e anche alcuni dipendenti dei lavori pubblici ma finora le lamentele sono cadute nel vuoto il sindaco Angelo Sbrocca in realtà non ne sapeva nulla anche lui è rimasto stupito e assicurato che il comune provvederà quanto prima a ripristinare l'impianto elettrico restituendo dignità all'obitorio del cimitero la ministra Fedeli ha firmato due decreti per l'edilizia scolastica da 5 milioni di euro gli altri 2 milioni poco più sono invece economie relative alla programmazione 2014-2015 per l'adeguamento e miglioramento antisismico delle scuole si tratta dei fondi cosiddetti ex protezione civile gestiti dal ministero dell'istruzione le risorse residue saranno utilizzate per nuovi interventi nelle regioni in cui si è verificata l'economia di spesa cioè Campania Lazio Molise e Sicilia fra poco il 5 gennaio partono i saldi invernali l'ADOC l'associazione dei consumatori ha fatto alcune stime i commercianti sono pronti e sperano in un maggior volume di acquisti in questo periodo sentiamo il 5 gennaio al via i saldi invernali Molise come in tutta Italia secondo quanto deciso a livello centrale in accordo tra tutte le regioni prezzi scontati già si vedono in giro come prassi ma con la crisi che non allenta la sua morsa rappresentano una boccata d'aria per le famiglie l'ADOC l'associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori ha stimato che in generale si spenderanno non più di 250 euro per famiglia spesa contenuta anche se in lieve crescita rispetto allo scorso anno ovviamente ci sono le dovute eccezioni in quanto le difficoltà ad arrivare a fine mese sono tante per molti l'ADOC evidenzia che purtroppo la combinazione tra redditi bassi e spese primarie irrinunciabili elevate come cibo trasporti e tasse non permette di destinare grosse cifre alle spese extra considerato anche che i saldi arrivano dopo le feste natalizie quindi la stima dell'associazione consumatori è che gli acquisti più ingenti si concentreranno nel periodo finale quando gli sconti arriveranno al 50-60% tenendo anche conto di chi compra online il 25% è pur vero però aggiungiamo che c'è anche chi aspetta il primo giorno di ribassi per comprare ciò che fino a marzo potrebbe non essere più sugli scaffali dei negozi l'ADOC ha rilevato ancora che i consumatori preferiscono diluire la spesa per il vestiario durante l'anno quest'anno evidenzia comunque qualche commerciante con il vero freddo arrivato in ritardo chi voleva acquistare capi pesanti ad esempio ha atteso anche gli sconti per avere un prodotto di qualità senza spendere troppo resta il fatto che i saldi oggi possono rappresentare davvero un'opportunità sia per chi acquista sia per chi vende facendo muovere l'economia siamo in attesa di una svolta ospichiamo che questi saldi possano in parte tamponare i problemi fiscali e quelli di merce in venduta così la Confeser Centi che stima rispetto all'ADOC una spesa media di circa 330 euro a famiglia mentre il Codacon steme un calo del 5% rispetto all'anno scorso attenti agli acquisti veri e l'invito ai consumatori purtroppo ci potrebbero essere commercianti che non sono corretti con gli utenti ha spiegato la Confeser Centi per questo altro consumo offre come sempre un decalogo per non incorrere in spiacevoli sorprese tutto pronto a Riccia per l'undicesima edizione del Presepe Vivente circa 30 scene e 300 persone impegnate nell'evento per due giorni Riccia come Betlemme dell'epoca della natività come da tradizione ormai due giorni di apertura oggi e domani 4 gennaio dalle 17 alle 23 sentiamo Giuseppe Carriera a Natale tutto il mondo è Betlemme e a Riccia i vicoli del centro storico illuminati dalla luce delle fiaccole le case i supportici i fondaci i piccoli coltini diventano il palcoscenico naturale per rappresentare il più noto e sacro evento della cristianità all'ombra della torre la piccola cittadina giordana viene ricostruita nei minimi particolari e in essa tornano in vita gli antichi mestieri si riodono le voci dei lavoranti e sono degli attrezzi nelle botteghe del fabbro del falegname del vasaio si sente nell'aria l'odore del pane appena cotto dal fornaio per due sere oggi e domani dalle 17 alle 23 a Riccia rivive il passato e a farlo rivivere sono circa 300 persone tra allestitori figuranti uomini donne e bambini che popolano il mercato riempiono la sinagoga si stipano nelle locande sono mercanti artigiani pesci ve neodimenticanti pastori che accudiscono i propri animali li mungono e con il latte preparano gustosi formaggi lo stesso latte che sarà unito anche al riso e alle spezie per una specialità tipica che rappresenta un dolce omaggio della comunità e simbolicamente un messaggio di prosperità e di benessere per tutti una messa in scena di grande suggestione che vuole accostarsi al vero e riutilizza gli edifici monumentali di Riccia come il Beato Stefano il castello medievale con la caratteristica torre simbolo della città la chiesa di Santa Maria delle Grazie o il magazzino per le scene più importanti tra le quali la sede della Corte di Erode e del Censimento parti integranti di un percorso nel borgo da piano della Corte fino alla Natività in piazza Sedati a ritroso nel tempo ricco di fascino prodigio e mistero Riccia Bethlehem recita lo slogan della manifestazione che si tiene oggi tra il gennaio e domani dalle 17 alle 23 nella sua undicesima edizione un incontro con la fede con l'accoglienza di una cittadina e di un territorio come quello del Fortore alla scoperta di emozioni rare e bellissime e di sapori tipici che da sempre sono tra i simboli connotanti di questa comunità è tutto il nostro TG delle 14 termina qui dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea come sempre ai colleghi dello sport noi ci rivediamo intorno alle 15 buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti